Ciao da Apsim! Arrivo alla fine anche io a parlare del grandissimo gol di Kenan Ildiz contro il Frosinone lo scorso 23 dicembre, come sapete non seguo più l'Allegrentus, non ho guardato la partita, il gol l'ho visto chiaramente anche perché l'hanno pubblicato tutti ed era interessante approfondire la questione, quindi non ho parlato della partita, non ho parlato del gol, non parlo quasi mai dell'Allegrentus, ma in questo caso qualcosa da dire ce l'ho, anche più di qualcosa, ma cerco di andare breve. Kenan Ildiz parte titolare per la prima volta con la maglia dell'Allegrentus, con la prima maglia dell'Allegrentus, in Serie A a Frosinone perché bisognava dare un segnale a Vlaovic, bisognava dare un segnale a Vlaovic, il quale poi è stato raccontato che si sia rasserenato nel partire dalla panchina, no? Pensate, uno che viene letteralmente bombardato, non segna, è colpa sua, non sa stoppare, sbaglia i rigori, non è sereno, non è un campione, è stato pagato troppo, costo a bilancio esagerato, tutta colpa sua. Segna, grande Max, che bello visto, Vlaovic si è ritrovato, Allegri ha fatto ritrovare Vlaovic e poi viene messo in panchina e lui accetta e dovrebbe essere sereno in una situazione del genere, poi segna, e non ho neanche visto il gol onestamente, però ho sentito parlare di un bel gol fatto da Vlaovic, segna, dopodiché ancora grande Max che ha gestito Vlaovic, e quindi lui perché continua a segnare, infatti si sbaglia totalmente Vlaovic, a mio avviso, come ho già detto, avrebbe dovuto voltare le spalle a questo allenatore, a questa squadra, a questa società, ma per informazioni che ho io, onestamente, tutt'altro che sereno Vlaovic, tutt'altro che sereno, anzi, sta cercando per il secondo anno consecutivo, se è possibile, di andarsene a gennaio. Sarà molto difficile, ma lui sta cercando di andarsene a gennaio, come già se ne voleva andare la scorsa stagione, ricordiamo che pur con la fantomatica pubalgia, il procuratore di Vlaovic andò in giro per l'Europa a cercare offerte, poi non arrivarono e Vlaovic restò per poi a metà gennaio ritornare in campo, quando ormai il mercato era aperto, ma sostanzialmente si era capito che nessuno lo avrebbe comprato, quindi situazione risolta in quel modo. Ma queste sono quelle cose che i bravi giornalisti che poi vanno ad incensare allegri per il fatto di Ildis, sanno benissimo, però non raccontano, loro le sanno benissimo, ma non le raccontano. Ora parliamo di Ildis, Ildis fa un gol bellissimo per caparvietà, per voglia, per intelligenza, per esecuzione tecnica, per potenza anche fisica, cioè veramente un bellissimo gol, un grandissimo gol di un grandissimo giocatore. Poi l'esultanza alla Del Piero, oggi la prima pagina su tutto sport, Del Piero ha telefonato a Kenan per complimentarsi, Del Piero anche lui dovrebbe capire cosa vuole fare da grande, cioè con tutto il bene, perché sì, va benissimo a telefonare al Ildis, va benissimo a telefonare a chi vuole lui per complimentarsi, per congratularsi, ma allora, il Ildis, qual è il problema del Ildis? Il problema del Ildis è che sembrerebbe, sembrerebbe uno spot per Allegri, sembrerebbe uno spot per Allegri. In realtà, a voler essere un minimo intelligente, ma un minimo intelligente, è proprio la pietra di scandalo, è proprio la nemesi, è proprio la conferma che ci avevamo ragione noi e di questo parliamo. Ho qui davanti, infatti, il rendimento del Ildis con l'Alecrenentus quest'anno, anzi, della sua stagione. Ora, il Ildis comincia, in realtà, facendo 5 minuti a Udine, quindi la sua stagione comincia il 20 agosto, perché con la Next Gen la stagione avrebbe avuto inizio il 2 settembre, quindi più avanti, quindi comincia con questa presenza subentrando già sul 3-0 contro l'Udinese. Poi fa altri 9 minuti contro il Bologna, sull'1-1, quindi in una situazione, tra l'altro, di risultato in bilico, forse entra addirittura ancora sull'1-0 del Bologna, perché lì c'è quel gol tardivo di Vlaovic con assist di Ildis, con assist di Dealing, cioè dopo il fallo Dealing su un Doje, va bene. Poi, panchina, panchina, non convocato, panchina. Parliamo del periodo inizio settembre, fine settembre, quindi nel mese di settembre, allora che cosa succede? Che per tre volte gioca con la Next Gen, quindi un paio di volte va con la prima squadra e c'è incompatibilità, perché non sempre c'è sovrapposizione, in particolare il 2 settembre l'Alegrentus va a Empoli, anzi il 3 settembre va a Empoli, il 2 settembre gioca la Next Gen, Ildis non poteva giocare. Poi l'Next Gen gioca il 15 settembre, ma il 16 settembre c'è Allegrentus Lazio, anche lì c'è convocazione e quindi Ildis non poteva giocare. Di solito viene mandato a giocare in Next Gen dopo la partita dell'Alegrentus e quando non c'è sovrapposizione. Per esempio il 23 settembre risulta non convocato, perché proprio il 23 settembre lo si manda ad Ancona per giocare e tra l'altro fa gol e assist decisivi nel 2-1 contro l'Ancona in Serie C. Poi va ancora in panchina il 26 settembre contro il Lecce in casa, ma il giorno dopo c'è tempo di mandarlo sempre in casa a giocare contro la Re Canadese, dove fa 83 minuti senza fare né gol né assist nella vittoria 2-0. Poi sta ancora con la prima squadra e fa un quarto d'ora nello 0-0 contro l'Atalanta, che poi che entra a fare? visto che Allegri dice che è stato un ottimo 0-0, andare a pareggiare a Bergamo non è facile. Quindi lo si fa entrare per fare il difensore, lo si fa entrare per fare il difensore, altro che la punta. Va attaccante, ma sostanzialmente deve contenere dietro. Poi fa 4 minuti contro il Torino, in panchina tutta la partita col Milan, 3 minuti contro il Verona. Questo ci dice Transfermarkt. Poi fa 5 partite in panchina e siamo arrivati con queste 5 partite all'8 dicembre. Nel frattempo lui però gioca ancora con la Next Gen. Il 29 ottobre contro l'Olbia, 86 minuti. Il 12 novembre contro la Carrarese, 90 minuti. Tutte le volte in casa, perché le trasferte con la Next Gen non le poteva fare. Tranne il 6 dicembre contro la Lucchese e poi il 9 dicembre ancora in casa. Sono sempre 90 minuti contro il Pineto in casa e il 9 dicembre fa anche gol. Quindi la strategia è questa. Tu vieni in prima squadra, poi giochi o non giochi, tanto giochi pochi minuti. Il giorno dopo, se puoi, vai a giocare con la Next Gen. Se c'è trasferta o sovrapposizione non ci vai. Questa è stata la gestione ibrida di Ildis. Ma succede una cosa. Succede una cosa. Che lui, se l'8 il 12 settembre viene ancora convocato dalla Turchia Under 21 e fa complessivi 160 minuti facendo anche un gol, due sconfitte con la Turchia, tra l'altro anche contro l'Italia Under 21 gioca 90 minuti. Poi a un certo punto Vincenzino Montella, nuovo CT della Turchia, che fa, lo convoca a novembre e il 18 novembre lui parte titolare contro la Germania, segna un grandissimo gol. Un grandissimo gol. Quindi lì non ho visto prime pagine per Montella. Non ho visto Mago Montella sulle prime pagine. in 73 minuti e la Turchia, grazie al suo gol a questo punto decisivo, vince proprio 3-2 contro la Germania. Cioè, mentre Allegri gli faceva fare 5 minuti qua, 10 minuti di là, panchina, 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 non convocato, panchina, 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 5 minuti, 3 minuti, 15 minuti, e gli diceva, vattene in next gen dove faceva 80 minuti, 70 minuti, 90 minuti, in trasferte, in casa, in serie C. Arriva un attimo Montella e dice, senti ma, tra l'altro lui è nato in Germania, ma ha una nazionalità turca, quindi una partita ancora più importante per lui. Viene un attimo che ti faccio giocare. Gioca contro la Germania, segna e vincono. E lì si comincia a parlare di il dis e dicono, ah ma allora questo qui è forte, com'è che nessuno se n'è accorto? E allora, però è dal 18 novembre che succede, dopo il 18 novembre, e già ne ho parlato un po', il 26 novembre, la prima partita successiva, 26 novembre contro l'Inter, panchina, convocato, ma panchina, primo dicembre, convocato, panchina, 8 dicembre, convocato, panchina, 15 dicembre, convocato, entra, subentra 2 minuti col Genoa e finisce comunque 1-1. Quindi, l'intuizione di Montella non è stata colta da Allegri per un mese, per un mese intero, perché poi, per vederlo titolare, deve arrivare il 23 dicembre. E nel frattempo, sempre dopo il 18 novembre, fa altre due presenze, 6 e 9 dicembre, con la Next Gen. E poi appunto, prima squadra, come dicevo, trasferta a casa, panchina. Allora, poi lui entra in campo, fa questo bellissimo gol contro il Frosinone, ma come si fa a dire che è merito di Max? Come si fa? Si rivedono prime pagine, si leggono articoli di noti giornalisti tipicamente allegriani, tipicamente allegriani, con delle vere e proprie, parliamo proprio di divinizzazione, parliamo proprio di idolatria, qualcosa di, è difficile definirlo in altro modo, nei confronti di Allegri, per come gestisce i giovani, per ricamare e romanzare questo grandissimo gol di Il Diz, ma nessuno dice l'unica cosa vera e fondata di tutta quanta la faccenda. Allegri, anche per il Diz, come per altri, non ci ha capito nulla. Non ci ha capito nulla. E si va a parlare adesso di Barrenecea, di Sule, di Colussi-Caviglia, Fagioli, anche se squalificato, Miretti, Iling, Huizen, ma la realtà dice tutt'altro. Si parla dei debutti di certi giocatori, giovani o presunti tali, fatti fare da Allegri debutti, ma un conto è far debuttare, esordire. Altra cosa è far giocare con continuità e valorizzare, e valorizzare. Non voglio entrare nel campo delle opinioni, tanto sapete come la penso, Allegri out sempre e comunque, e per me non valorizza proprio nessuno. Ma vogliamo restare sui fatti? I fatti fin qui ve li ho elencati. Cioè abbiamo un giocatore fortissimo di cui Allegri non si è accorto per 16 partite di campionato, perché solo alla 17esima lo mette titolare per fare uno sgarbo a Vlaovic, tra l'altro, o per rasserenarlo, come dice qualcuno. E Allegri non ha nessun merito che il dis faccia questo gol, perché questo gol è la forza, la qualità del ragazzo, del giocatore, che ha queste caratteristiche. Ecco perché si parla del gol alla Del Piero. Perché Del Piero, cioè della giocata comunque da grande attaccante, perché quelle sono le giocate che il grande attaccante sa fare per una sua preparazione anche tecnica individuale. ma il grande giocatore fa anche la grande prestazione con la squadra. È lì che ci sono i meriti dell'allenatore. Al massimo il merito dell'allenatore può essere quello di lasciare libero un giocatore di esprimersi, uno che ha particolare estro. Ma non mi pare che con il dis sia stato fatto questo per 16 partite. Allora ecco che non c'è nessuna ragione per Max, ma c'è proprio il torto marcio. Perché uno dovrebbe stare qui a dire Ah, ma allora il dis sa fare questo poco e finora com'è che non me l'hai fatto vedere? Finora com'è che non è stato fatto giocare? Finora com'è che è stato tenuto in pachina o è stato mandato in Serie C o gli sono stati fatti fare pochi minuti? La verità è che Montella e il dis con la maglia della Turchia hanno creato un grandissimo imbarazzo ad Allegri. Perché lì è arrivato l'elemento della discordia, lì è arrivato l'elemento del confronto, il termine di paragone, che non doveva esserci perché se il dis non fosse stato convocato, non avesse giocato, non avesse segnato, giocato bene contro la Germania, Allegri avrebbe potuto continuare serenamente per chissà quanti altri mesi a non farlo giocare avendo ragione. O addirittura avrebbe avuto ancora più ragione a sentire certi propagandisti in totale malafede, compresi i tifosi, nel farlo esaldire col Frosinone perché nel frattempo non c'era neanche il termine di paragone della partita. E quindi adesso uno può dire effettivamente Allegri l'ha fatto giocare, ha fatto questo grande gol, però c'è stata anche la Turchia, c'è stata anche Montella. Invece nel piano di Allegri non ci sarebbe stato questo inciampo. Quello è stato proprio un inciampo. Ma se chiedete ad Allegri se era certo che il dis avrebbe segnato, vi potrà dire quello che vuole, ma non lo sapeva. Non lo poteva sapere nessuno perché questa non è una giocata preparata. Lì innanzitutto c'è un pallone perso da parte del Frosinone con un Allegrentus che storicamente questa stagione non è per niente abituata a fare ri-aggressione alta. C'è un pallone perso su un passaggio, quindi l'Allegrentus si trova lì davanti, arriva questo pallone, è il dis che ne dribbla tre. È tutta una giocata pura, individuale, estemporanea, tecnica di un ragazzo che rischia di perdere questa qualità e queste giocate se continuerà ad essere disallenato da Allegri. Opinione mia. Per adesso però, che sia una giocata estemporanea, solitaria e individuale, è un dato di fatto, che sia una botta di fortuna, è un dato di fatto, che sia lo schema tipico di Allegri palla a quello bravo e ci pensa lui, come lui scrisse anche nel suo libro nel 2019, quindi non c'è nessuna, lo rivendicava il fatto che, come nel basket, il pallone da tre lo dai a quello bravo tecnicamente. È la stessa cosa che si è venuto a creare. E allora, tutti quelli che dicono che Allegri sta facendo, sta creando, e lo magnificano in tutti i modi, si scontrano contro la realtà dei fatti. Poi possiamo stare qui a dire quanto si vuole che la società è stata brava a trattenere il DIS quest'estate, che c'erano delle offerte. Ma parlando di offerte, vogliamo parlare di dove sono stati mandati tutti quanti gli altri, visto che la società è stata brava a trattenere il DIS? Allora parliamo di Sulee? Parliamo di Sulee, che si dice addirittura che Allegri ha lanciato Sulee? Allegri e Sulee ha fatto fare 21 presenze, Di Francesco 17, uno dice, ah allora lo vedi che Allegri gioca di più con, cioè che Sulee gioca di più con Di Francesco. No, perché in 21 presenze con Allegri Sulee ha fatto 540 minuti. Fate un po' vole a divisione. In 17 presenze con Di Francesco Sulee ha fatto 1400 minuti e ha fatto 6 gol e un assist, mentre con Allegri un gol soltanto. Questi sono dati di fatto. Poi, le opinioni, ognuno le esprime, le ma le lasciamo da parte, non mi esprimo, Barrenecea, addirittura ho letto Allegri ha fatto emergere Barrenecea dalle giovanili. Allegri ha lasciato Barrenecea a fare 21 presenze, poi non tutte, per non tutte c'era Allegri, comunque Barrenecea ha fatto 21 presenze con Zauli, 17 presenze con Bonatti, quindi tra Under 19 e Under 23, 31 presenze con Brambilla e c'era Allegri con Brambilla in Next Gen, Barrenecea si è anche rotto il crociato, 31 presenze in Next Gen gliel'ha fatta fare Allegri, mentre gliene faceva fare 5 in prima squadra, perché Brambilla c'era con Allegri, quindi 31 presenze in Next Gen significa che Allegri ha detto vattene in Next Gen, in Serie C, in Serie C, 31 presenze, 4 gole, 2 assist, 2500 minuti, in prima squadra Barrenecea, Allegri ha fatto fare 5 presenze, 166 minuti, arriva Di Francesco e gliene fa fare 18 finora, 18 su 18, un gol e 1400 minuti, di cosa stiamo parlando? Chi è che ha lanciato Barrenecea? Chi è che ha lanciato Sule? Chi è che ha lanciato il Diz? Huizen, Huizen, con Alexandro rotto, strarotto, rirotto, lo mandano in prestito al Frosinone 6 mesi, alla faccia di quello che lancia i giovani, cioè tu hai Huizen, Alexandro rotto, ti tieni Huizen e lascia Alexandro che finisca la carriera o alla Juve o comunque la stagione come meglio può o come peggio riesce, però fai giocare Huizen, no, Huizen viene mandato in prestito al Frosinone, viene mandato in prestito al Frosinone, vi ricorda qualcosa? A me ricorda Fagioli nel 2021 mandato in prestito in Serie B alla Cremonese, mi ricorda Rovella che è stato mandato in prestito e non è stato mai preso in considerazione e poi ha voluto andarsene lui alla Lazio, Cambiaso, comprato e mandato in prestito e allenato da Motta e Cambiaso coraggio di farsi intervistare e dire che Allegri lo ha cambiato, Allegri lo ha cambiato, Motta no, Motta no, Motta non t'ha allenato, caro Andrea, Motta non t'ha allenato, ma tu sei giuventino quindi che capisci, che puoi dire, che puoi dire, che è chiaro, oltre ad essere giuventino poi qui bisogna per forza assecondare la narrazione allegriana, di questo stiamo parlando e potrei ancora citare tutti i giocatori silurati da Allegri o non presi in considerazione, Artur non andava bene, Zaccaria non andava bene, McKennick che a me non è mai piaciuto è stato mandato via, è stato mandato a Leeds, se il Leeds si fosse salvato addio McKennie, invece il Leeds non si salva, torna McKennie, nessuno sa che farne e Allegri dice adesso me lo tengo e adesso Allegri è il mago del mago McKennie che sembra stia facendo cose, non sta facendo nulla di significativo, fondamentalmente, cose normalissime, ordinarie, Locatelli comprato per assecondare Allegri con un sacco, costato 40 milioni in un momento in cui non c'era neanche l'indicatore di liquidità per poter spendere nell'estate 2021 sacrificando fagioli alla Cremonese, Miretti, ma quanto è stato fatto giocare nel suo ruolo Miretti? È stato lanciato Gatti, ma di che stiamo parlando? Che giocatore è Gatti? E poi parliamo di uno che non è un giovane cresciuto nelle giovanili dell'Allegretto, comunque sto andando per le lunghe, il concetto, l'avete capito, è che come al solito parliamo di propaganda, parliamo di una narrazione asservita in malafede a sostegno di Allegri di cui ci sono, di cui sono pieni gli esempi sui giornali, sui media eppure la realtà direbbe altro, la realtà direbbe altro, ma, e chiudo, se i tifosi contenti per il gol di il disc, bellissimo, stiamo parlando della nascita di una stella, fossero veramente tifosi della Juventus, avrebbero detto almeno per metà di loro, almeno per metà di loro, Allegri, ci hai negato delle gioie a questo punto, farlo giocare sempre, avresti dovuto farlo giocare anche di più, con moderazione, senza dire Allegri out, o essere anti-Allegri, no, semplicemente, ah, se è così forte, allora vuol dire che l'allenatore non l'ha fatto giocare, non l'ha visto finora, e l'avrebbe fatto, avrebbe dovuto farlo giocare di più, invece no, sono tutti quanti lì a dosannare Max, per aver fatto sbocciare il disc, e quindi sono tutti Allegriani. Grazie per la vostra attenzione, buon dibattito nei commenti e anche su Discord, link in descrizione, con tanti spazi per parlare di calcio, mettete like al video se vi è piaciuto e condividetelo, iscrivetevi, attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti e abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi, seguitemi anche su Avsimout, il mio secondo canale YouTube, ci vediamo molto presto e senza compromessi, sempre Allegri out! Grazie a tutti!